Rosa come i Pink Floyd, come la prevenzione oncologica destinata alle donne che annualmente la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, mette in campo con visite senologiche gratuite. La solidarietà a Pescara quindi si tinge di rosa con due eventi musicali prenatalizi. Il primo sabato 3 dicembre con il concerto del Contempora Rivoca all'Ensemble del Conservatorio d'Annunzio di Pescara, diretto dal maestro Angelo Valori, che nella sua seconda edizione si svolgerà nel Santuario del Sacro Cuore e sarà preceduto alle 19 da una Santa Messa. Poi ancora sabato 17 dicembre al Cinema Massimo con l'evento Pink Floyd del gruppo pescarese dei Paintbox, uno spettacolo rosa il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt per continuare a finanziare la campagna del nastro rosa 2016 per la prevenzione del tumore al seno che è tuttora in corso con oltre 400 prenotazioni. Queste attività saranno rivolte a due progetti che abbiamo in atto e un progetto che si chiama Vado, che significa volontari a domicilio, Vado a domicilio dei pazienti che hanno bisogno di supporto e di qualsiasi cosa di sociale e assistenziale. Il secondo invece è per continuare con le visite che stiamo facendo senologiche perché non siamo riusciti a finire e a portare a termine le prenotazioni. È importante sostenere questa associazione che è un'associazione assolutamente no profit che però è di grande aiuto e di grande sostegno sia per le persone che soffrono purtroppo di queste patologie e sia perché va a integrare quell'azione nel territorio che viene fatta dagli enti preposti. Grazie. Grazie.